Consumando frutta e verdura nei luoghi di lavoro si guadagna salute e si incide meno sulla spesa della sanità pubblica. Così l'aslo di Teramo, attraverso il proprio servizio di igiene degli alimenti, sta attuando un progetto alimentare come intervento di prevenzione. Una strategia che coinvolgerà le aziende, sia pubbliche che private, e che potranno accedere ad una piattaforma elettronica. L'iscrizione permetterà alle imprese con almeno 10 dipendenti e che al proprio interno hanno un punto di ristoro, bar o distributori automatici di snack, di poter usufruire delle linee guida alimentari elaborati dall'aslo di Teramo e pubblicate sulla piattaforma dedicata. A coniugare il corretto stile di vita assolutamente con una giusta alimentazione, portando e aumentando, incrementando il consumo di frutta e verdura anche nei posti di lavoro. Anche la regione Abruzzo sta attuando una nuova governanza sanitaria in linea con le indicazioni del Ministero della Salute. Infatti nel piano regionale di prevenzione 2014-2018 esiste uno specifico programma sulla corretta alimentazione che può prevenire malattie gravissime. Tengo a sottolineare che l'Abruzzo ha concluso la sua fase commissariale per gli obiettivi di salute raggiungendo soprattutto il grande traguardo degli screening oncologici e dunque anche della prevenzione. Qui si innesta una nuova attività, una nuova iniziativa di prevenzione riguarda gli stili di vita e in particolar modo l'alimentazione. C'è un piano nazionale, un piano regionale della prevenzione, si mettono finalmente in pratica cioè in esecuzione, cioè le ASL gestiscono il piano della prevenzione e provano ad accordarsi con le imprese per facilitare il consumo di frutta e verdura utilizzando ovviamente gli spazi di lavoro, le tecnologie collegate anche alla disponibilità dell'alimentazione stessa cioè degli alimenti e in particolar modo va ricordato che per quanto riguarda gli stili di vita e in questo caso l'alimentazione è il primo passo di una prevenzione fatta da te. Investire sul proprio stile di vita, sulla buona alimentazione significa investire ovviamente su una qualità migliore della vita e una buona salute per una vita anche più lunga.